Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video Oggi siamo qui con un nuovo format Faremo la 30 Shoutout Challenge La sfida consiste in 30 tiri Dove partiremo più o meno dal centrocampo E sfideremo in uno contro uno il portiere Che saranno alternati Francesco e Steve Il nostro ospite speciale, Steve Caccavale Il miglior portiere della Serie B di Fuzzle ragazzi Scriveteci e insomma quanto è forte questo ragazzo in porta ragazzi È una roba assurda Ma chi è che farà la challenge quest'oggi Contro Francesco Di Mauro e Steve Caccavale? Oggi a fare la 30 Shoutout Challenge ci sarà Ayman Maizzi Il giocatore del balzo Il caimano Sono carichissimo di spaccare Steve, cavolo E poi in cabina di regia, cosa importante Assieme a me, per la prima sfida, chi ci sarà? Cioè lo vogliamo dire? Cioè il grandissimo, attesissimo Abra Calaia Il mago del palazzetto dello sport di Baricella Che non poteva mancare Eccomi ragazzi, ciao a tutti, salve Guardate chi vi abbiamo portato Vi abbiamo portato Abra Calaia con una capigliatura stupenda tra l'altro Quindi lasciate like, scrivetevi, commentate Per il video, quindi dovete mettere like solo per quello Esatto, l'ha fatto solo per voi Quindi noi possiamo partire Come ti senti Ayman alla vigilia di questa sfida? Sono stracarico di distruggere Steve E Francesco anche ma Qual è il tuo obiettivo sulla 30 Shoutout Challenge? Allora il mio obiettivo è provare a fare almeno la metà di gol a Steve e a Francesco Quindi più o meno Anche 10 Allora ragazzi, noi possiamo partire Possiamo catapultarci in questa sfida Vuoi aggiungere qualcosa? Fran, come ti senti anche tu alla vigilia di questa sfida Ad affrontare Ayman My Z, il caimano? Sarà difficile? Sarà difficile sia per me che per Steve Penso che possa concordare anche lui Concordi? Sì, concordo È una sfida molto intensa Sappiamo che, soprattutto te che poi lo fai Prima di tutte le settimane Tre volte a settimana più la partita Già soltanto farne 5 È molto faticoso Farne 30 Chiaro che sia ancora più difficile Per questo abbiamo anche deciso di alternarci Fra noi due Comunque direi che non c'è niente da aggiungere Possiamo andare con la sfida Quali sono le impressioni a Steve? Cosa ti aspetti? Ti aspetti di neutralizzare il più volte possibile Ayman My Z? Che aspettative hai riguardo questa sfida? Beh, sono abituato a neutralizzare Ayman My Z Un po' tutti i giorni praticamente Però comunque sì, ha ragione Fre A dire che a livello fisico È una sfida molto difficile Comunque rimanere in piedi Coprire tutto quello spazio È abbastanza complesso Quindi sarà molto difficile fisicamente Penso che i più difficili siano gli ultimi shot out Sai un po' in debito di ostigeno E quindi potrà farmi più gol Ma non penso che ne faccia molti Oh, lancia la frecciatina Non penso ne farà molti Ruba la freccia da Abra Calaia E la spara da Ayman My Z Allora ragazzi Non ci resta null'altro Se non andare in questa sfida Immergiamoci E possiamo dare il via Fabio, che dici? Andiamo con la sfida Andiamo in cabina di regia Andiamo Allora ragazzi Partiremo dalla linea rossa Quindi un po' oltre il centrocampo Avremo sette secondi per arrivare a concludere Ok, tutto pronto Quindi siamo in cabina di regia Andiamo a vedere come si comporterà Ayman e Izzy Come si comporterà per te, Nick? Eh, da vedere Da vedere La cosa che è un fattore molto determinante È che comunque i ragazzi giocano insieme Ci alleniamo insieme Quindi Steve potrebbe conoscere qualche punto forte di Ayman E viceversa Sei pronto, Kaimano? Wow Ci siamo Allora noi diamo il via Ai sette secondi di gioco 3, 2, 1 Via Vabbolo punta subito E la prima è un po' La prima di riscaldamento La prima di riscaldamento, dicono Non so se è una presa in giro, Kaimano Via Spremmo qui Buono C'è un'ottima chiusura di Steve My Z sta provando a cambiare soluzione A cercare qualche buco Ma c'è Steve che si fa trovare ancora una volta pronto È lì che fa un balletto Sta ballando Steve Lo sta stuzzicando Ok, ci siamo, ci siamo Via Lo sfida Gli esce, esce Gli lascia distanza Guarda, guarda Ok, Steve Ancora una volta Steve È difficile È previsto comunque È bravo Steve Ad avanzare A chiudere lo specchio È difficile comunque Via Parte sì Oh, palo Palo ancora Vincere di tre palo ancora Tre volte Tre pali Tre pali Grazie Ma cosa è successo? Cosa è successo? Ed è partito E l'ultimo palo è arrivato sul gong Praticamente Però non è riuscito a finalizzare l'azione Insuperato il gong Dopo quattro tiri Ancora zero gol Adesso diventa importante Anche a livello psicologico Trovare la reazione per il caimano E sblocchiarsi Adesso allora vediamo il quinto tiro 3 2 1 Via Fate ora Maizzi che vuole riscattarsi E lo fa ora Questa volta becca il palo Però è il palo interno E adesso L'esultanza Quinto tiro Un gol Per Ayman Maizzi Il caimano Adesso vediamo che c'è lo switch in porta C'è Francesco al posto di Steve Caccavale Quindi questo potrebbe essere un mataggio Per Ayman Maizzi Non conoscendolo Oltre al fatto che comunque Sicuramente meno esperto Francesco non si allena Da futsal Altre volte Sono curioso Sono curioso di vedere questa sfida Perché non conoscendosi È bella Potrebbe essere molto interessante Via Ora Ayman Soprò lo specchio Una volta 5 6 E fin Caimano ricordati Che se la porta non la vedi È ora di cambiare i piedi Oh bellissimo Le invenzioni del mago Via C'è frazione per il caimano Settimo tiro Prepara subito È ancora lì È ancora lì Il caimano 1 su 7 1 su 7 Clamoloso 2 1 Via Barte ora Ayman E c'è E c'è C'è per il riscatto Cerca l'angolino Maizzi Cerca l'angolino Stai usando una stessa No C'è Come ti permetti Questa no Te la farò pagare 3 2 1 Via Parte ora Ayman Cerca di coprire lo specchio Lo fa bene Lo fa ora Via Parte ora Il caimano Contro 3 Doppio passo C'è di umiliarlo E lo umilia Lo umilia malamente E poi gli dà anche il colpetto Tipo Dai Stai tranquillo Il colpetto Da compagno Tra virgolette L'umiliazione 10 tiri 3 gol Quindi adesso Andiamo ad ascoltare Ayman Le sue impressioni dopo questi primi 10 tiri Allora Ayman Hai fatto 10 tiri 3 gol Quali sono le tue impressioni Cosa ti aspettavi Diciamo che l'inizio mi sta riscaldando Però Devo dire che i portieri comunque sono veramente bravi Tra Steve e Francesco Non so chi sia più forte Cioè stai dicendo Questo è il portiere più forte Della serie Sento che si scarse Forse solo io che sono scarse E te sei forte il mio genere Adesso i prossimi 20 tiri provo a far meglio Speriamo bene Dai Eccoci anche con Steve Quali sono state invece le tue impressioni Dopo questi primi 10 tiri di Ayman Sei stato superlativo In tante circostanze Tanto tu ho avuto anche fortuna Perché tre pali Una dietro l'altra Non mi era mai capitato nella vita Tre pali Come hai fatto a prendere tre pali Lo so anche io Cioè sembrava tipo Uno di quei video comici Sì 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 Comunque Ti aspettavi questo rendimento In realtà sì Perché comunque lo conosco Quindi so Che Preferisce il destro So che gli piace allargare Aprendo il piattone Quindi so che devo stare attento sui tiri angolati Infatti mi ha beffato Io ho preso posizione L'ho toccata col pollice Non ho alzato abbastanza la mano Quindi comunque si vede che ci conosciamo Cioè sia lui che me Si vede che giochiamo insieme Ecco Come ti è sembrata questa 10 tiri Sei andato un po' in difficoltà Sull'ultimo tiro Dove Ayman my zi Il caimanot Ti ha umiliato brutalmente No ma Penso di aver sbagliato io Cioè Siccome è ancora una cosa un po' La calcia 11 Il fatto che ho cercato di andare Dritto sui piedi dell'avversario Cerca di toglierla Però lì devo rimanere in piedi E colpirli ancora allo specchio Sono sicuro di questo Detto questo Andiamo verso la seconda manche Ti aspetti di fare meglio In questi secondi 10 tiri Ayman? Sì assolutamente Tutto pronto Si riparte con la seconda manche Cosa ti aspetti Mago? Qualcosa in più di Ayman? Guarda Secondo me sì Perché si è sbloccato E ho visto che C'era un miglioramento Negli ultimi tiri Poi ovviamente Secondo me C'è una caratteristica Da tenere in considerazione Cioè che i portieri Ogni 5 tiri si cambiano Quindi influisce anche su Come ragionare Come provare a Vedere i punti deboli Comunque dei portieri Quindi in questo caso Sono curioso Però credo che Secondo me Possa fare meglio In questa seconda manche Diamo il consenso Ad Ayman Magy Per partire Con la seconda manche 3 2 1 Via E cerchi ancora a calciare E cerchi ancora a calciare Magy Se ci posso dare un consiglio Prova a spostare la palla a destra Che lo metti in difficoltà 3 2 1 Via Parte ora Ok mano Doppio passo Prova il tunnel Via Parte ora Ok mano Doppio passo No Vai E c'è Ma che portiere è Steve Bravissimo Steve A restare sempre in piedi A seguirlo Sto molto bravo qua Nelle palle Questo infilcerà negativamente Sui prossimi sabato sera Probabilmente Adesso terzo tiro 3 2 1 Via Parte ora in Caimano Eh beh Steve sta sempre È difficilissimo Far di gol Perché Cioè Ma siccome l'errore Caimano Che si avvicina troppo Perché Steve rimane sempre in piedi Non sa passa Sta lì Lo punta dritto Lo punta dritto Deve provare a star di Di lato Provare a mettere in difficoltà Con un cambio di direzione Col fisico Essendo che C'è una distanza troppo minima Nel calcio 5 Rispetto al calcio Non è la possibilità di tirare Quindi o tiri subito O se sei troppo vicino Se tiri La sagoma E il portiere è bravo In questo caso Ci abbiamo Steve Che è da molti anni Che pratica questo sport Ti copre bene Copre bene lo specchio E quindi metti in difficoltà In questo caso Aiman Però che hai in mano Ce la puoi fare Quindi io credo in te E fammi vedere qualcosa Una cosa che voglio chiedervi È comunque abbiamo visto Aiman Concludere sempre Nei primi 3-4 secondi Quindi volevo chiedervi Se secondo voi Magari può prendersi più tempo Fare con più calma E sfruttare tutti i 7 secondi Guarda Hai assolutamente ragione È una cosa che ho tenuto in considerazione Ma conoscendo Aiman È un tipo di giocatore Che preferisce puntare Con un altro tipo di velocità Se posso consigliare ad Aiman Appunto di cambiare strategia Durante i tiri E arrivare sul pallone In velocità diverse Diciamo 3-2 Bravo guarda Zero Gli dice zero Lo sta sfidando Lo sta provocando Oddio L'ha provocato zero Gli ha detto zero Quindi la prima manche con Steve 5 tiri Zero gol Quindi anche duello Steve e Francesco Ora è 2-1 Francesco E Francesco ha già altri 5 tiri da fare 3 2 1 Via Parte ora 3 4 Bravo Che parata Mamma mia Che parata E qui però Lo stava fregando brutalmente Certo Se posso aggiungere per adesso La migliore parata che abbiamo visto In questa stessa Francesco ha fatto una parata straordinaria Era già a terra Ha avuto lo scatto per lanciarsi E andare a prenderla lì Nel palo che era millimetrico Il calcio Aiman è stato bravo Ad angolarla bene E comunque a differenza di Steve È andato a terra Secondo che Steve l'avrebbe seguito Esatto Bravissimo Però comunque è stato bravo a recuperare A lanciarsi E ci è arrivato sulla palo 17esimo tiro 3 2 1 Via Partito Partito Emanu Cerca ora le finte Cerca di eludere l'intervento 5 6 7 Finito Prende anche il palo All'ottavo secondo Ma poco importa Insomma Si era finito prima Adesso 18esimo tiro Attenzione Quindi è l'ottavo Lo chiami o non lo chiami Clean sheet Clean sheet Bravo Così mi piace La sfida ci rende più interessanti ragazzi Via Partito ora Aiman Maigi Dai ora sta in piedi E lo neutralizza così Ma non è finito Aiman continua Via Ora il Kaimano Palo interno Questa volta Non trova neanche fortuna È sfortunato in questo caso Anche il Kaimano Perché Qui aveva tirato bene È stato anche bravo Perché non è arrivato troppo sotto al portiere Come ha fatto in occasioni precedenti Ha calciato con un attimo d'anticipo Ha colto impreparato il portiere Proprio dopo la pala Si è persa sul palo E conseguentemente lateralmente Quindi Anche un po' di sfortuna Per il Kaimano Che ora si accinge a battere L'ultimo tiro Vai A quanti gol siamo Antimo? Siamo a 3 gol Su 19 tiri Ok Siamo a 3 gol Quindi Se questo è il ventesimo Ormai Le aspettative del Kaimano Si sono affrante Perché avevamo detto 15 gol su 30 Se non sbaglio Fabio Si Se questa era l'aspettativa di Haimano Adesso legge anche Il fantasma del Dell'uminazione Del clean sheet Come dice sempre Ultimo tiro 3 2 1 Via Sparta il Kaimano Che punta sempre 3 Calcio a prima Il calcio fuori Clean sheet Incredibile Seconda serie Conclusa a 0 Ora voglio andare a sentire assolutamente Il Kaimano Voglio vedere cosa ci dirà Perché Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Però Francesco l'ha chiamato Dal 5 al suo compagno Perché stanno facendo Una bellissima Prestazione Andiamo ora a sentire Il Kaimano Vai Fabio Chiedi di tutto quello che puoi Vamo Ai man questa Questa serie è andata bene Purtroppo è stato Il clean sheet Qual è stato secondo te il motivo Ma diciamo che Tutto dipende da me Ha fatto Ho fatto male In questa In questa serie Prova a rifarmi Nell'ultima I portieri Compro bene alla porta Ma potevo fare Molto molto meglio Volevo chiedere Al Kaimano Se posso aggiungere Come mai Hai fatto così tanto male Secondo te Cioè Rispetto alle tue aspettative Iniziali Conoscevi Steve Conoscevi Il perché Portieri Copro bene alla porta Sai Uno contro uno Comunque deve essere lucido Io in questo momento Non sono tanto lucido Quindi lo sto facendo Al massimo Delle mie potenzialità Adesso Cosa ti aspetti di fare In questa In questa nuova serie Speriamo meglio Sicuramente spero meglio A meno un gol Così Battle record di prima Di zero Siamo qua anche con i portieri Nick Cosa ne pensi Della loro prestazione Beh Devo dire che Mi hanno sorpreso Mi aspettavo che Il Teimano potesse fare Quel qualcosina in più Però Steve è sempre rimasto in piedi Francesco Ha fatto qualche piccolo errore Ma è riuscito a rimediare Quasi subito Quindi Posso dire che Secondo me Sono stati davvero bravi Va bene Allora adesso Andiamo a chiedere anche Le impressioni ai portieri A Steve A Francesco Iniziamo con Steve Che ha fatto i primi cinque Come è andato secondo te Ma sono abbastanza contento Comunque Posso dare un consiglio A Daimann Il fatto che Mi punti da centrale Mi permette di Mantenere il centro della porta Magari Se partisse da laterale Mi fa perdere Magari lo specchio Così oppure Allargandosi di più Lì diventerebbe più difficile Al momento Sono riuscito a rimanere Sempre abbastanza in piede Non fare grandi spostamenti Non riuscire Cioè riuscire a non perdere mai la porta Quindi Per il momento sta andando bene Però non voglio Candare vittoria Tu te invece cosa ne pensi Sei d'accordo Con quello che ha detto Steve Sì Assolutamente Poi penso Un grande valus Che abbia Aiman Nel fatto che siamo Completamente diversi E anche il fatto Comunque Il fatto che non faccia Tutto bene Come dovrebbe essere fatto Con un portiere di calcio 5 Di creare comunque Prevedibilità La cosa importante Se posso aggiungerla È che ha chiamato il shout out Prima che finisse a calciare Cosa da sottolineare Grande Francesco Un applauso Andiamo ora Con gli ultimi dieci shout out Staremo a vedere Quale sarà l'esito Della sfida Il caimano 3 su 20 Vedremo se riuscirà A riscattarsi In questo turno E riuscirà almeno A chiudere in doppia cifra Che sarebbe fare 7 su 10 Quindi è difficile Abbiamo visto Aiman A partire con l'aspettativa bassa E ha detto Che ne vorrebbe fare Almeno uno su 10 No Davvero Sì Secondo me può fare Sicuramente meglio Ventunesimo tiro Ventunesimo shout out Ci sei Aiman Sei pronto Sei carico 3 2 1 Via Fatte il caimano Oh bravo Cosa ha combinato Qua il caimano Qua che appena Cosa ha combinato Qua il caimano È uscito male Questo è un gol Da futsal estremo Proprio Perché sulla destra Sulla sinistra Ha eluso l'intervento Comunque anche io Mi aspettavo che tirasse Siccome anche Steve Invece Forse l'hai riportata Verso l'interno con la sua La scuola Siccome l'hai stato molto bravo 3 2 1 Via Partitore Uh Prova a calciare il subito Ok c'è Angelo Che mi passa la palla 3 2 Caimano Via 23esimo tiro Partitore il caimano Che guarda Steve Uh Cosa ha fatto quel caimano Cosa ha fatto quel caimano Cosa ha fatto quel caimano Si è sbloccato E gli va a dare la mano Infatti si vede Che sta prendendo Sta prendendo Suola esterno E una L'arco Spiccice alla provocazione La seconda volta Alla terza Ti lascio Sento un ginocchio Un crociato Hai finito la stagione Già da adesso Te lo dico Prova a fare il terzo arco Che vengo Vengo diretto sul ginocchio Da qua Via Partitore Comincia con la diritta Batte Haimano Uh bella la finta Haimano Steve copre la porta Secondo me Haimano Stava ancora Tendendo ad andare Alla stessa velocità Non cambiare direzionalità Puntare in un altro modo E È monotono Dovrebbe cercare di Mettere di più in difficoltà Facendo cose più varie Possiamo dire così Adesso andiamo All'ultima parata di Steve In questa challenge Il 25esimo tiro Di Haimano 3 2 1 Go Via Fate ora Haimano C'è una porta sul destro Uh Poi sul sinistro Eh sì Eh Però era Era al pero È arrivato all'ottavo Settima e mezza In realtà è arrivato A 8 e 20 A 8 e 20 Quindi ha sporato i 7 secondi E quindi Non è valido Non lo possiamo Non lo possiamo Più che altro per correttezza Nei riguardi degli altri Adesso Andiamo Con il set di parata di Fre Che vuole neutralizzare Haiman Maizzi 26esimo tiro 3 2 1 Via Haiman si porta la palla su destra Poi sul sinistro Fre rimane in piedi 6 7 Questo te l'avrei dato Allora Via 28esimo tiro Per il testo gol Haiman Maizzi Caimano Mi ho battuto lo spec Ecco Lo fa bene Fre in questo caso 3 2 1 Via Parte orecchie ma Fre rimane in piedi Cercherebbe adottare la tecnica Steve Ora E poi no E c'è 29-5 29-5 Questo è il risultato Ancora una volta Fè è caduto Però è sempre bravo Ad alzarsi velocemente E quindi adesso andiamo a vedere Quello che sarà L'ultimo tiro Della shout out challenge Di Haiman Maizzi 3 2 1 Via Parte ora Punta Fre che rimane fermo Attenzione Arriva il sesto gol di Haiman Maizzi Per l'onore Arriva il sesto gol E chiude la challenge 6 su 30 Insomma Dai Sei di preso un po' A fase estemporanea A funzionare 3 gol nella prima sfida 3 gol nell'ultima Peccato per quell'intermezzo Che non è stato positivo Si ha concluso sicuramente Molto meglio di come è iniziato Ma in quest'ultimo tiro Secondo me Steve Forse non l'avrebbe preso Secondo me Perché comunque Non ha coperto bene il primo palo Però comunque in generale Sono stati entrambi bravissimi Anche Haiman Ha migliorato molto Nel corso della sfida Adesso andiamo a sentire I loro pareri Allora un po' 30 tiri Comunque È abbastanza stancante Sentirei che fare un po' Di riscaldamento Devo dire che i portieri Sono stati veramente bravi Ma io potevo fare molto meglio Infatti Alla prossima challenge Mi li farò Allora Haiman Sì una challenge Insomma avevi aspettative Più alte inizialmente Poi cosa non è funzionato Principalmente Qual è il problema Che hai riscontrato Quello più grande I piedi Quello Quella è la prima cosa Steve sta morendo per terra Steve sta arrotolando No secondo me Sbagliava proprio la tecnica Mi avvicinavo troppo il portiere Una volta provavo a puntarlo Quando invece potevo già tirare Quando saltavo il portiere Aspettavo un attimino in più Per tirare Invece lo aspettavo Tiravo E poi me la prendeva Diciamo che potevo fare Molto molto meglio Però comunque Bravi i portieri Dai vediamo come farà Abra Calaia Se hai tanto così forte Più di me Secondo questa sfida Doviamo fare sia io Che Calaia Quali consigli avresti da darti Anche se consigli di Haiman Non so se accettarli Perché avendo fatto 5 gol su 30 Che consigli mi puoi dare Sei Hai ragione Il mio consiglio È di guardare il portiere E in base a quello che fa Provare o a saltarlo Oppure Se lo vedi bene in posizione Tirare subito Adesso andiamo a sentire Anche Steve e Francesco Che sono stati veramente Bravissimi in questa sfida Quelli sono stati i vostri pareri Come è andato Haiman Una cosa che ha sbagliato In generale secondo voi Secondo me nella terza parte Haiman è migliorato molto Su il fatto di essere Veri versatile Cioè di cambiare Rapidamente posizione E fintare anche il tiro Infatti è riuscito A eludermi due volte Riuscendo a fare Delle buone finte Quindi secondo me Non è andata così male Perché per l'attaccante È difficile riuscire Comunque a puntare Il portiere frontale E trovare comunque Lo specchio della porta E la lucidità Di inventare qualcosa Quindi secondo me Sei su trenta Non è un risultato scontato Cioè è un buon risultato Io penso esattamente Lo stesso Io ho già detto a Iman Secondo me fare Sei su trenta Non è così male Continuando pure Come arrivi ai trenta Che tra l'altro Finito crescendo Però sì Magari l'unica cosa È che magari Portiere come me Potrebbe essere puntato Più forte secondo me Perché quello che so Fuori piace Sto facendo anche Un assiste a Calaia Ma penso che lui già Lo sapesse Ok allora andiamo Alla conclusione Di questo video Ringraziamo tantissimo Iman Maizi Che ha affrontato Questa sfida Ovviamente ringraziamo Anche gli ospiti Nick a commentare E i portieri Noi ragazzi Vi ringraziamo Per aver visto questo video Fino alla fine Vi ricordiamo ovviamente Di lasciare like al video Attivare la campanellina E di iscrivervi al canale Commentate come sempre Fatevi sentire Con il vostro supporto E noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Iscriviti al canale Ragazzi Oltre a seguire noi Vi ricordiamo Di seguire anche Imano su Instagram Come ti chiami Il Caimano Troverete qua Il nome sul banner Insomma seguite anche Il Caimano Che ha fatto una challenge Comunque incredibile Nonostante la complessità Di quest'ultima E adesso noi Andiamo in chiusura Grazie Caimano Grazie a voi Grazie per l'invieto E grazie di tutti